18 giornate in sei comuni, Salerno, Capaccio, Vallo della Lucania, Teggiano, San Gregorio, Magno e Sarno per il pacchetto sotto l'albero di Natale dedicato alla prevenzione e regalato dall'asla di Salerno. L'ambulatorio mobile dell'azienda sanitaria ripropone il tour itinerante che percorrerà la provincia di Salerno con l'obiettivo di incentivare l'adesione agli screening oncologici gratuiti. Da questa mattina l'iniziativa è partita nell'area adiacente il Teatro Ghirelli dove in una conferenza stampa sono stati anche svelati i dettagli della nuova campagna. Il track aziendale sosterrà per tre giornate consecutive dalle 9 alle 18 per permettere ai cittadini di effettuare gratuitamente il pap test, la mammografia, ricevere il kit del colon retto che potrà essere riconsegnato direttamente a bordo del camper nei giorni successivi. Un'iniziativa importante perché le persone potranno ritirare e riconsegnare il kit nella stessa sedia dove lo hanno ritirato. Questo segue un concetto molto importante che è il concetto di prossimità. Vogliamo dare incontro alle esigenze dei cittadini, favorire la loro adesione quanto più possibile riducendo anche i tempi per la consegna e riconsegni andando nello stesso luogo. Allora questa è un'iniziativa che si ripete negli anni e anche quest'anno abbiamo garantito ai cittadini una prevenzione in maniera capillare, in prossimità, andando noi all'interno delle piazze dei singoli comuni. A differenza degli anni precedenti questa volta invece rimaniamo stazionati tre giorni. Ed è questa la novità della nuova campagna di prevenzione che si affianca anche all'arrivo dell'intelligenza artificiale per analizzare i campioni relativi ai test oncologici sul colon retto. Si ricorda che la mammografia è dedicata alle donne tra i 50 e i 69 anni, il pap test alle donne tra i 25 e i 64 anni, il screening per il colon retto a uomini e donne in età tra i 50 e i 74 anni. L'accesso alle attività di screening è libero ma si può anche prenotare al numero telefonico 338 1234567. La cosa importante è che queste campagne di screening oncologico sono rivolte alla popolazione sana, quindi le persone che hanno un sintomo non debbono rivolgersi allo screening. C'è lo scopo della campagna è intercettare persone che non sono ancora malate, quindi è fondamentale capire che tutte le persone sintomatiche non debbono rivolgersi alla campagna di screening ma debbono andare dal medico di base. Questa è un'ulteriore offerta alla popolazione cercando di divulgare la notizia. Il pap test deve essere fatto dalle donne dai 25 ai 64 anni ogni tre anni. L'importanza del pap test sta nel fatto che la malattia neoplastica è una manifestazione di un processo piuttosto lungo nell'arco del tempo e che è fatto di tappe sempre più gravi. Per cui se con lo screening riusciamo e quindi con il pap test riusciamo a individuare queste tappe pre-neoplastiche noi possiamo intervenire in tempo molto utile per la donna sia per risolvere il problema immediatamente e soprattutto in maniera assolutamente non invasiva.